benvenute anche oggi sul mio canale allora oggi vi faccio vedere come realizzare un fondo tondo per una borsa all'uncinetto è molto molto semplice da realizzare io ho messo vedete anche dei piedini li vedete insomma da quest'altro lato sono delle dei piedini con le alette quindi facili facili da posizionare ovviamente se foderate la borsa possiamo inserire i piedini anche all'interno della fodera però insomma così insomma quando andrà andremo io preferisco metterli così perché quando vado a mettere la fodera sopra non si vedono ovviamente li schiacciamo bene bene in questa maniera qui così non daranno fastidio quindi vado ad usare questo cordino swan di colore beige perché poi farò la borsa abbinata vedete con il burro il color burro quindi per creare questo contrasto di colori detto questo passiamo al tutorial allora per il nostro tutorial ci occorreranno circa 50 g di cordino swan black un uncinetto 3,5 e quattro piedini di questi che hanno vedete queste alette che una volta infilati io già li avevo infilati perciò li vedete così larghi ma in genere sono molto molto più stretti ok quattro di questi li trovate sia in argento in oro e anche in nel colore bronzo insomma questi tre colori ha detto questo iniziamo iniziamo con un anello magico quindi vedete questo è il filo più corto facciamo una x in questa maniera che qui c'è il filo più lungo infiliamo il nostro uncinetto e tiriamo per iniziare con il filo questo sarà il filo del comitolo ok adesso iniziamo con tre catenelle quindi una l'abbiamo già realizzata due e tre e all'interno dell'anello magico realizziamo in totale 14 maglie alte una già l'abbiamo realizzata e ne realizziamo altri 13 quindi 14 totali quindi proseguite e realizzate all'interno 14 maglie alte arrivati vedete alla fine quando abbiamo lavorato le nostre 14 maglie alte stringiamo ovviamente il nostro anello e chiudiamo sulla terza catenella a maglie bassissima in questa maniera qui ecco qua adesso per il secondo giro di nuovo lavoriamo 1 2 e 3 catenelle e in ogni punto andiamo a lavorare 2 maglie alte quindi un aumento per ogni punto questo significa che alla fine degli aumenti avremo 20 28 maglie alte quindi proseguite lavorando 2 maglie alte in ogni punto quando arriviamo vedete alla fine dove abbiamo la nostra prima maglia alta di 3 catenelle filo sull'uncinetto e anche all'interno qui andiamo a lavorare una maglia alta perché chiaro che anche qui va fatto l'aumento quindi entriamo vedete sulla terza catenella e chiudiamo sempre a maglia bassissima in questa maniera qui allora ovviamente è chiaro che se usate un filato più sottile potrebbero esserci delle differenze con l'inizio delle maglie alte quindi tenete presente che questo fondo è proprio per realizzarlo con un filato adatto per il 3,5 quindi o il cordino swan black o comunque di un tipo di cotone più spesso insomma una lana più spessa tenete sempre presente di tenere conto della grandezza del filato quindi ricordate che un lavoro con un 3,5 quindi il filato deve essere adatto per questo tipo di uncinetto quindi se andate a prendere un cotone numero 5 è chiaro che il risultato non sarà per niente uguale ok tenete presente questa cosa qui adesso per il terzo giro sempre 3 catenelle per il nostro lavoro e andiamo a lavorare una maglia alta e in quello subito dopo due maglie alte quindi lavoreremo una maglia come si presenta e un aumento di nuovo una maglia alta e 2 il prossimo e proseguiamo così per tutto il giro adesso vedete io ho da lavorare l'ultimo punto e la mia sequenza mi ha portato che qui ho lavorato due maglie alte quindi significa che qui ne vado a lavorare una visto che noi abbiamo iniziato con una sola maglia alta vuol dire che in quest'ultimo punto ne andiamo a lavorare un'altra in modo che le sequenze saranno due vedete che andiamo ad unire una due una due fino alla fine quindi di nuovo 1 2 3 sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima e questo sarà il nostro terzo giro ok adesso per il quarto giro lavoriamo 1 2 e 3 filo sull'uncinetto entriamo nella prossima e lavoriamo 1 e 2 maglie alte come si presentano nella terza lavori a un aumento quindi 2 2 maglie alte nello stesso punto nel prossimo una maglia bassa nel prossimo un'altra maglia alta scusate detto bassa alta quindi 2 maglie alte semplici come si presentano e nella terza lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto quindi 2 maglie alte e nella terza maglia alta sottostanze lavoriamo un aumento quindi di nuovo una maglia alta nel prossimo una maglia alta nel prossimo e nella terza un aumento quindi andate a proseguire fino alla fine del giro quindi vedete arriviamo dove abbiamo gli ultimi due punti da lavorare quindi ho qui ho lavorato gli aumenti secondo la sequenza quindi lavoro 1 e 2 nel prossimo quindi una maglia alta nel secondo una maglia alta nel terzo qui devo avere l'aumento perché così ho la mia sequenza quindi filo sull'uncinetto e dove ho la prima maglia alta formata da 3 catenelle lavoro un'altra maglia alta e 123 sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima allora a questo punto vedete io ho già realizzato 1 2 3 e 4 giri adesso vado a realizzare un quinto giro aumentando sempre la sequenza lavorando 1 2 e 3 filo sull'uncinetto lavoro una seconda maglia alta una terza maglia alta quindi 1 2 e 3 e nel prossimo un aumento 2 maglie alte nella stessa maglia alta di nuovo una maglia alta nel prossimo un'altra maglia alta nel prossimo un'altra maglia alta nel prossimo e nel quarto punto lavoro 2 maglie alte un aumento quindi continuate lavorando 3 maglie alte semplici come si presenta quindi in ogni maglia alta una maglia alta per tre volte e nella quarta 2 maglie alte un aumento arriviamo vedete nell'ultima sequenza da lavorare quindi una maglia alta un'altra maglia alta e ancora nel prossimo un'altra maglia alta e nel quarto 2 maglie alte 1 e 2 e 1 2 3 sulla terza chiudiamo maglia bassissima stendiamo il nostro lavoro che questo è già il risultato allora già a questo punto potete valutare se voi vi va bene insomma questa grandezza siccome io voglio un fondo un pochino più largo perché poi vi realizzerò una borsa preferisco fare un altro giro quindi ho lavorato 1 2 3 4 e 5 righe più o meno sarà una alla grandezza di 15 cm così ok io adesso vado a fare un altro giro per il 1 2 3 4 5 per il sesto giro lavoro 1 2 e 3 quindi la prima maglia alta entrò nel prossimo lavoro una maglia alta entrò ancora nel prossimo lavoro una maglia alta entrò nel quarto lavoro un'altra maglia alta e nel quinto punto lavoro un aumento quindi 2 mai alt è lo stesso punto di nuovo lavoro 4 mai alte quindi 1 2 3 e 4 e nel quinto lavoro 2 mai alte quindi un aumento andiamo a procedura così per tutto il giro quindi arriviamo alla fine vedete lavoriamo l'ultima sequenza qui ho l'aumento lavoro le mie mai alte una 2 nella prossima 3 nella prossima 4 nella prossima e nella quinta il mio aumento 1 2 e 3 e sulla terza catena chiudo il mio lavoro a maglia bassissima stendiamo il nostro lavoro andiamo a chiudere il nostro filo se poi dovete ovviamente continuare la borsa non lo chiudete andiamo a chiudere vedete in questa maniera poi qui ho il mio filo entro nel punto subito dopo tiro il mio filo entro in questo dopo e tiro e vado a nascondere il mio filo dietro quindi il nostro fondo è terminato allora con 6 giri totali e uncinetto 3,5 con cordino swan la lunghezza del mio fondo sarà pari a 18 cm quindi per una borsa tonda media va più che bene se poi la volete più grande ovviamente bisogna continuare e è semplice come avete potuto vedere adesso dobbiamo andare a posizionare i nostri piedini allora per posizionare i nostri piedini siccome il nostro fondo è tondo andiamo a tenere presente come se dividessimo in quattro il nostro tondo quindi come una croce vedete in questa maniera qua quindi in quattro parti subito di fronte su quello che vedete l'ultimo giro entro tra uno spazio e l'altro della mia maglia alta di qua e di là in questa maniera qui infilo il mio piedino e vado ad allargarlo ovviamente lo stendo bene bene e ho posizionato il primo piedino devo tenere presente che per il secondo devono andare frontali quindi faccio così come se tirassi una riga una linea e qui vado a posizionare l'altro sempre tenendo presente che entro vedete tra la maglia alta quindi di fronte così e apro le mie alette lo stendo bene bene quindi vedete devono stare l'uno di fronte all'altro giro il mio tondo quindi queste due sono uno di fronte all'altra devo fare la stessa cosa qui tiro quella che è una linea ovviamente immaginaria e quindi per la prima vado qui vado qui e al centro vedete blocco il mio piedino ok apro le mie alette estendo bene bene ed ecco qui ovviamente devo andare anche di fronte quindi tiro sempre questa linea immaginaria e vado qui dove devo centrare sempre vedete la maglia alta giusto al centro quindi ho perso il segno scusate e infilo allarco le mie alette ed ecco qui quindi ho vedete posizionato i miei quattro piedini in questa maniera qui è abbastanza semplice veloce e semplice io spero che il tutorial vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale vi raccomando di tenere attiva la campanella così ogni volta che io pubblico un tutorial vi arriva la notifica e ovviamente se il tutorial di vostro gradimento vi interessa lo seguite mettete sempre un mi piace e vi saluto al prossimo tutto tutto Grazie.